Magnifico, possiamo dire che è un bel momento questo per l'Università di Teramo? Un bel momento sia per i risultati sia per l'impegno con cui apriremo lunedì la campagna delle immatricolazioni per il 2015-2016. Un ateneo in forte ripresa, grandi opportunità per i giovani, i risultati sull'internazionalizzazione dimostrano e confermano il trend di crescita sulla mobilità studentesca, i corsi di laurea ormai ben rodati e consolidati, direi la maturità per le nuove metodologie didattiche, in particolare per il patto con lo studente che entra nel terzo anno e ci consente di raccogliere dei risultati particolarmente interessanti. I dati divulgati qualche giorno fa vi danno come la prima Università d'Abruzzo, questo significa cosa? Significa molto, soprattutto se consideriamo che l'inserimento sia nella classifica sulle 24 ore sia in quella di Censis Repubblica è un inserimento stabile nel gruppo delle Università del centro-nord. Questo significa da un lato qualcosa di preoccupante come sistema nazionale perché il blocco delle Università del Sud è continuamente e costantemente penalizzato. Per quanto riguarda noi significa che pur avendo servizi e contesti che sono tipici del Sud, siamo riusciti, ciò non di meno, ad inserirci stabilmente tra le Università del centro-nord. Questo è il risultato più importante che volevamo conseguire, che vogliamo stabilizzare, perché entrare nel circuito delle Università più virtuose per la ricerca e per i risultati nella didattica significa comunque poter giocare in uno spazio che per scelta, nel nostro caso è relativamente circoscritto perché è una scelta di specializzazione, ma significa poter giocare un ruolo di primo piano. Che numeri vi aspettate da questa nuova campagna di immatricolazioni? Io ospicherei un consolidamento. Dopo due anni di crescita, anche significativa, considererei un ottimo risultato anche solo il consolidamento. Sono convinto che con il riassetto del campus, con l'apertura dei nuovi laboratori e con l'affinamento dell'offerta formativa, sono convinto che si possa aspirare anche ad una crescita. Se ci fosse sarebbe un risultato davvero clamoroso, perché la tendenza di fondo è in una diminuzione delle immatricolazioni a livello nazionale. Noi vorremmo consolidare i risultati di crescita già conseguiti e ripeto, se dovessero aumentare ulteriormente le iscrizioni saremmo non solo lieti, ma direi straordinariamente soddisfatti di questo risultato. Grazie. 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 Grazie.